Sono tante le denunce che sono arrivate anche al Comune di Salerno in merito alla sicurezza e ai bivacchi che avvengono in luoghi di aggregazione della città, dove poi il Comune di Salerno è intervenuto con degli sgomberi. C'è in programma qualche altra azione perché continuano ad arrivare in redazione e segnalazioni? Sicuramente faremo delle altre iniziative. Come le sai ho curato personalmente insieme al Comando di Vigili due sgomberi, anzi tre, tre sgomberi importanti da Piazza San Francesco, la parte del Trincerone nei pressi del Bar dell'Amore dove c'è quella fontana e anche lì abbiamo sgomberato e anche l'ex ostello della gioventù sulla Via Lungomare. Continueremo a tenere il passo, va da sé che io la definisco una sorta di guerra simmetrica, nel senso che c'è un affollarsi abbondante, indistinto e indiscriminato di persone che occupano degli spazi libri per poterle addormire. Sono anche dei derelitti, però noi non possiamo basare la guardia, dobbiamo fare in modo che la città resti tranquilla, pulita e presentabile. Sindaco, questo non mette al centro dell'attenzione un problema legato all'accoglienza, cioè Salerno non riesce ad accogliere, ad offrire un'alternativa a quanti purtroppo poi sono costretti a vivere per strada? Il problema è globale, molto più grande di noi naturalmente, è un problema che in qualche modo attraversa l'Italia e l'Europa, è un problema di globalizzazione. Se lei comprerà la rivista di questi giorni, troverà una serie di studi che si stanno conducendo a riguardo. Naturalmente noi abbiamo i nostri strumenti, abbiamo un centro di accoglienza, abbiamo insieme alla Caritas le menze dei poveri, ma possiamo far fronte fino a un certo punto all'ondata massiva. Bisogna che si faccia un ragionamento di tipo nazionale, si immaginino delle leggi non repressive, ma sicuramente intelligenti per quanto riguarda l'immigrazione e si va davanti.